Anche quando la guerra stava arrivando sono rimasta sempre in casa nel centro del paese. Vedevamo le bombe cadere, una ci fece tremare tutta la casa. Una volta abbiamo visto cadere un aereo con il pilota che si è buttato con il paracadute. Io però non avevo paura perché non capivo niente di guerra, ma avevo tre bambine piccole, una di quattro, una di tre anni, una di un anno. Il paese era pieno di soldati, uno che era caduto dentro un pozzo. L'abbiamo salvato. Una notte sentiamo una donna che gridava, venite venite, c'è uno che chiama aiuto, grida acqua, acqua. Siamo accorsi in quattro o cinque e abbiamo visto che era un inglese caduto in un pozzo che per i bombardamenti non aveva più il muretto intorno. Abbiamo preso una corda e l'abbiamo tirato fuori. Ha continuato a scriverci per molti anni dopo la guerra per ringraziarci. a scriverci per l'istituale a scriverci per l'istituale a scriverci per l'istituale a scriverci per l'istituale a servizi al Grazie a tutti.